Allora questa zona qua l'hanno fatto passare tranquillamente, l'ho detto accorti dal momento in cui passate il ponte, ok? Perché è quasi un passaggio obbligato, quindi nel momento in cui c'è il passaggio, nel momento in cui c'è il passaggio, attenzione all'imboscata, quindi bisogna trovare più punti, così come hanno fatto loro all'altra parte, di visione dell'aria, che è tutta questa qui, quindi è una bella imboscata da sopra, ci vuole poco e niente. Pazzo che qualcuno si aprirò da quella parte, avevamo già un fuoco incrociato, ok? Ok, da qui e da lì.